uno dei libri più belli che io abbia mai letto e non parlo soltanto di letteratura per ragazzi è la tigre in vetrina di alchizei la tigre in vetrina è un libro che io consiglio a tutti grandi e piccoli è un romanzo che riesce a raccontare la guerra e la trasformazione di un paese da democrazia in dittatura attraverso lo sguardo di una bambina alchizei è stata una delle più importanti autrici greche e credo che sia tutt'oggi una delle più importanti autrici contemporanee lei ha scritto per bambini ha scritto per adulti e io ho avuto la grandissima fortuna di conoscerla in occasione di un salone del libro di Torino un paio di anni fa lei è venuta a presentare uno dei sei ultimi romanzi tradotti in Italia nonno bugiardo dalla casa editrice pubblicato dalla casa editrice camelo zampa e i suoi libri sono pubblicati per lo più da camelo zampa da salani e poi si trova ovviamente in giro girando tra le librerie dello stato anche qualcos'altro ma perché la tigre in betena mi ha colpito tanto innanzitutto è un libro di cui una bambina una ex bambina greca una mia coetanea che fa politica mi disse una volta è il libro che in grecia tutte le bambine che un giorno faranno politica dovrebbero leggere e leggono perché è un libro di militanza ma è un libro di militanza scritto con appunto con il candore anche con la libertà che può avere lo sguardo di una protagonista piccola che ha una sorella divina allora al chizzai ha raccontato di avere scritto questo libro in maniera inconsapevole rivolta ai bambini perché non sapeva non pensava di scrivere un libro per i più piccoli lei semplicemente scrisse scrisse quello che era successo quello che era successo nell'estate del 1936 con l'avvento della dittatura fascista appunto in grecia e scrisse il modo trasfigurandolo come fanno sempre gli scrittori con i loro romanzi in cui lei e la sorellina avevano vissuto attraverso le le reazioni degli altri questo cambiamento politico importante ovviamente tutto questo è visibile allo sguardo di un adulto quello che troverà un bambino è invece la pura libertà la pura il puro divertimento le pure follie di un mondo adulto nell'estate in cui tutto cambia io dico sempre che c'è sempre nel nella vita di ciascuno di noi un'estate in cui cambia tutto un'estate in cui si diventa grandi si cresce si perde qualcosa si perde dell'innocenza e si acquista qualcos'altro alchizei è morta di recente a più di 90 anni è la prima delle stati che le hanno cambiato la vita è stata appunto questa del 1936 il libro perché si chiama la tigre in vetrina che cosa succede la protagonista di questo libro la voce narrante di questo libro è una bambina che vive in una famiglia in cui c'è un nonno che parla come gli antichi vedendosi eh con i versi di Omero oppure citando gli antichi miti le antiche leggende quindi un nonno che rappresenta la saggezza la continuità culturale anche di questo grande paese che è la Grecia poi ci sono dei genitori che sono dei genitori giovani quindi dei genitori molto impegnati molto distratti eh presi dal proprio lavoro dalla propria vita e poi c'è un cugino cugino bellissimo affascinante coraggioso che si chiama Nikos questo cugino a un certo punto decide di andare a combattere per la libertà del suo paese e quindi eh decide di comunicare con con le bambine con con le sue cugine con cui appunto ha un rapporto molto affettuoso molto giocoso come sempre si ha tra cugini giovani in cui però c'è un dislivello uno è già grande più che adolescente gli altri due sono bambini e decide di mettere nella bocca di una tigre impagliata che c'è in vetrina nella vetrina del salone dei messaggi per loro e per la famiglia dei messaggi segreti per cui quindi ovviamente per segnare per marcare il suo passaggio il suo ritorno eh questo è il diciamo il simbolo eh del libro io confesso che eh in uno dei miei romanzi ho chiamato un personaggio Nikos eh in Addio Fantasmi proprio ispirata dal Nikos della tigre in vetrina quello che succede di molto bello di molto divertente è che il passaggio alla dittatura può sembrare ed è naturalmente qualcosa di terribile nella vita delle persone le bambine questo lo avvertono non tornano in città restano nella spiaggia di Lamagari che è questa spiaggia del dell'isola dove loro sono si trovano insomma sono sono andate come ogni anno a passare l'estate però tra i grilli e le scicale sentono che intorno il mondo rumoreggia ma gli adulti non non badano più a loro eh non badano più a loro e quindi c'è una grandissima libertà nella dittatura nel senso che si può fare quello che si vuole un po' il contrario di quello che stanno vivendo gli adulti ed è molto divertente ribaltare questo punto di vista e vedere appunto a un certo punto le bambine che dicono ah però questa dittatura è proprio una cosa divertente perché si può fare appunto tutto quello che si vuole i grandi non hanno più tempo di pensare a noi naturalmente non è così a un certo punto la voce narrante sente che la sorella sta scrivendo per esempio dei temi che sono stucchevoli che sono compiacenti verso la dittatura e si chiede come mai come mai sta scrivendo questi questi temi in cui dice che le piacciono delle parate o delle cose che lei trova ridicole che dentro casa tutti gli adulti che appunto sono clandestinamente contrari a quello che sta avvenendo trovano grottesche e quindi si pone il problema dentro il libro di ciò che si scrive per compiacere durante una dittatura mi ha ricordato molto in questo passaggio un testo di Umberto Eco che avevo molto apprezzato anni fa quando ero più giovane quando l'avevo letto in cui Umberto Eco raccontava di avere ritrovato un tema che aveva fatto a scuola in cui esaltava eh eh l'elogio del balilla faceva l'elogio del balilla e diceva questo questo ragazzino che scrive tutto preoccupato di compiacere gli insegnanti e compiacere il regime ero io che sono stato e sono diventato un fervente antifascista però questo gioco stucchevole del sembrare che poi hanno raccontato appunto molti scrittori ha raccontato Leonardo Sciascia ha raccontato Camilleri sono eh in realtà un gioco eh che eh che molti bambini fanno di finzione per essere accettati e trovo bellissimo che in un libro per bambini ci siano argomenti così profondi devo dire la verità per me non è una novità nel senso che ogni volta che sento dire ah è un libro per bambini ma parla di qualcosa di profondo di qualcosa di interessante io penso beh perché ma i libri per bambini parlano di argomenti profondi di argomenti interessanti le tematiche sono e devono essere quelle stesse eh che trattiamo tra adulti semplicemente raccontate in un modo in cui ci siano anche dei risvolti buffi ci siano delle delle traiettorie eh che rendono quel percorso divertente che lo rendono accettabile tollerabile malinconico ma in un senso comprensibile ai bambini ecco si legge davvero eh con grande disinvoltura con grande velocità con grande allegria la tigre in vetrina e ogni volta che l'ho consigliato a un bambino o un adulto eh quella persona mi ha ringraziato di recente un una persona mia coetanea un lettore anche un lettore molto forte mi ha confessato di avere avuto il blocco del lettore di non riuscire a leggere niente in questo periodo e io gli ho detto perché non provi con la tigre in vetrina lui come molti adulti non legge libri per ragazzi e quindi era un po' perplesso e poi mi ha ringraziato mi ha telefonato per ringraziarmi e dire io sai che l'ho divorato in pochi giorni mi è piaciuto tantissimo e mi ha fatto ritornare la voglia di leggere proprio perché eh i libri per ragazzi i libri scritti molto bene come questo possono dare la possibilità eh anche a noi di leggerli come qualcosa di proibito Alchizei ha avuto una vita molto bella su cui vale la pena dire eh qualcosa è stata eh una una dissidente eh sempre ha vissuto e dovuta andare via dalla Grecia durante la dittatura dei colonnelli invece appunto anni dopo quando era già una una giovane donna ha vissuto un po' ovunque in Europa in Francia ha vissuto eh in Unione Sovietica e ha vissuto anche in Italia e c'è un episodio commovente che lei mi raccontò dicendomi che quando era venuta in Italia era stata aiutata dal grande Edoardo De Filippo che eh aiutava appunto i dissidenti che arrivavano dalla Grecia gli artisti lei era una scrittrice appunto e li arruolava come attori e quindi c'è una Filomena Marturano in cui lei compare vestita da da greca da greca antica eh sul palco del del teatro ecco ho trovato questo racconto commovente perché eh questo questo mutuo soccorso tra artisti per per far sì che chi scappava da da situazioni politiche difficili potesse avere permesso di soggiorno eh l'ho trovato davvero bello